Un bel manifesto quello che abbiamo presentato oggi qui in Anci da parte di Ermete Relace e del nostro Presidente del Consiglio Enzo Bianco in una delle città più antiche, più conosciute al mondo assisi su un tema importante e fondamentale per il nostro Presidente ma soprattutto per il futuro della nostra nazione e del nostro mondo, la crisi climatica. Abbiamo oggi posto il centro su quello che deve essere un ruolo attivo dei territori, dei comuni insieme a quelli che i protagonisti del territorio delle associazioni di categorie, a tutto il mondo politico. Un tema importante, trasversale, che deve imporci delle scelte immediate per quello che è il futuro dei nostri figli in uno dei temi che ci riguarda di più che la sopravvivenza del nostro pianeta e della nostra amata Terra e credo che proprio partire da quella che è la città di San Francesco sia un bel importante tema soprattutto anche considerato tutti gli attori che hanno sottoscritto questo manifesto a testimonianza come su alcuni temi quello che conta è il fare e solamente il fare a favore degli altri e non nell'interesse di qualcuno.